È proprio bello poter passeggiare lungo le vie del centro storico, a Perugia in generale, per poter appunto vivere questa aria impregnata di jazz. Dico sempre che sono nato in una famiglia che ha sempre assecondato le mie passioni, in particolare la mia più grande passione che è appunto quella del jazz. E dico sempre che il jazz ha scelto me, perché quando ho iniziato ero troppo piccolo per decidere cosa farne della mia vita. E quindi ho incontrato poi il mio primo maestro, una persona molto carismatica che mi ha trasmesso l'amore per la musica e da lì è partito tutto. E quindi ho incontrato per la musica. E quindi ho incontrato per la musica.